buongiorno a tutti eccoci qui con il webinar del live trading 14 e 16 io sono marco martinelli confermatemi che mi sentite correttamente così possiamo iniziare volevo intanto augurarvi felice anno nuovo questo 2016 ci ha aperto le porte con una discreta volatilità sui mercati azionari cina 2 meno 7 quasi consecutivi mercato che non fa prezzo non so immagino abbiate letto insomma qualcosa cina tiene questo meccanismo dove a meno 7 del dell'indice viene automaticamente sospesa vengono automaticamente sospese le quotazioni e quindi due volte scattato questo questo stop out diciamo oltretutto da quest'estate cos'era successo gli investitori avevano avuto dei problemi con nel vendere le loro azioni quanto adesso ci sono dei blocchi anche per le vendite massicce di azioni quindi insomma un mercato veramente poco liberale che attualmente non sta premiando in quanto gli investitori stanno dicendo mi sono trovato in un mercato dove non sono libero di fare ciò che voglio e questa è un po la ragione per cui stanno vendendo così pesantemente ci sono alcuni alcuni fondi che hanno totalmente cancellato le loro partecipazioni in cina quindi insomma una cosa parecchio pesante quella che sta succedendo in cina ed ecco infatti che i riflessi sui nostri mercati insomma sono piuttosto evidenti indici azionari a picco possiamo vedere insomma il dax ok a parte le sessioni pre anno pre 2016 aperto in con un gap di oltre 200 punti e ci troviamo ora a meno 800 900 punti dal da inizio anno insomma in poche sedute non non me lo ricordo assolutamente un inizio anno tanto pessimo tra l'altro preceduto da un dicembre non glorioso quindi insomma questo 2016 si apre senza dubbio per gli orsi operazioni che abbiamo visto in particolare abbiamo ok chiaramente dax insomma anche abbastanza facile andare andare short anche se al momento io starei un attimo all'occhio perché cosa abbiamo abbiamo qui un gap iniziale quindi un un gap di forza interruzione del trend e inizio il trend ribassista e questo che è un po distante e potrebbe essere un continuation gap continuation gap significa che abbiamo altri 400 punti da fare al ribasso senza senza fermarsi se questo invece fosse un extension un exhaustion gap quindi un gap di esaustione questo potrebbe essere il limite inferiore dipende molto da come si chiude oggi io qui ho messo un piccolo buy stop su alla rottura rialzo di questa congestione anche se insomma è un buy stop tra virgolette pericoloso perché insomma potrebbe andare su e poi ritornare giù ma la possibilità di andare a chiudere il gap insomma è allettante quindi io lì ci ho piazzato un buy stop sono su time frame orario ok per infatti operatività tra l'altro su dax che quando prende il trend non si ferma insomma sul sul dax e ci si poteva assolutamente divertire questi sono alcuni dei trade che abbiamo fatto insomma vedete che ci siamo ci siamo parecchi divertiti stamattina tra l'altro chiusi alcuni cofi e per mostrarvi un po la situazione intanto ho parlato insomma sapete a me piace molto questo indice il vix ok c'è anche andrea vedo insomma anche lui un appassionato di vix e come non abiasimarlo vix che noi abbiamo aperto parecchio tempo fa insomma alcune posizioni al rialzo insomma l'abbiamo aperte qui l'abbiamo aperte qui l'abbiamo aperte qui l'abbiamo aperte anche prima un indice che ci dà sempre parecchio parecchio entusiasmo ci entusiasma molto in quanto insomma vedete quando spara il rialzo spara forte oggi mi attendo un 21 come minimo quindi un 21 è praticamente assicurato potrebbe essere 21 e mezzo potrebbe essere 22 anche oggi quindi insomma è un indice che come sapete a comprarlo dà delle soddisfazioni incredibili infatti vedete qua questo conto vi dico era un conto da 20.000 euro l'abbiamo iniziato quando si abbiamo iniziato a inizio anno prima operazione 113.000 più floating si da inizio anno insomma abbiamo fatto queste operazioni conto ripeto da 20.000 euro iniziali e il vix ci ha aiutato molto sicuramente a costruire a costruire margine perché perché quando andiamo a comprare su questi livelli è veramente regalato quindi al momento perché posizioni in vix parte sono già chiuse e parte insomma sono da tenere aperte a mio avviso probabilmente oggi si potrà chiudere altra metà posizione quindi qua chiuderò un lotto oggi che sarebbe in guadagno più o meno di 10.000 euro e l'altro lotto insomma lo terrei per eventuali insomma sparate perché il vix insomma ci ha abituato non è impossibile che vada a 29 se va a 29 praticamente faccio il 100 per cento dell'operazione se qualcuno non capisce qualcosa ovviamente fermatemi così vi aiuto insomma anche nella comprensione di questi strumenti anche se vedo che insomma siete un po tutti abbastanza schillati come si dice su questo strumento e non credo che necessiti di troppe presentazioni in quanto i game che facciamo dall'anno scorso sono piuttosto evidenti sottostante più facile da tradare perché sapete insomma va al rialzo in generale quando i mercati scendono più che altro perché aumenta la volatilità qualcuno potrebbe dirmi anche beh io preferisco andare short sull'S&P 500 ovviamente come come preferite l'unico problema dell'S&P 500 è che io per esempio mi sono fatto dei dolori nel 2013 nel 2013 con queste salite sinceramente mi sono fatto dei dolori perché l'S&P 500 non ha un tetto massimo come il vix perché il vix sostanzialmente a zero non ci può andare i limiti di 12-13 sono abbastanza invalicabili e quindi secondo me quando uno vuole perdere una posizione short sul mercato invece di mettersi su S&P 500 è molto meglio che ci si metta direttamente sul vix quindi sul vix abbiamo imbastito queste operazioni le teniamo oggi a leggere di remo e vediamo insomma un po come comportarci S&P 500 ovviamente future continuous non c'è stato gap da mezzanotte scende costantemente andiamo a vedere un altro sottostante particolarmente interessante VTI che ha avuto un periodo di stallo e ora riprende a scendere e oltretutto ciò che c'è da prestare attenzione anche a che continua a scendere con un euro dollaro che risale apriamo un secondo euro dollaro euro dollaro oggi in risalita noi avevamo un tetto a 1.08 che non è stato rispettato attualmente quindi riparte con vemenza con molta forza e sicuramente chi si trova in acquisto di petrolio non si trova in una buona posizione petrolio oggi fatto un trade abbastanza rapido su oil oil possono esserci delle occasioni di questo tipo qui stamattina insomma forte iper venduto forti situazioni di iper venduto ci possono essere alcune occasioni per andare in acquisto quindi al momento diciamo che io lo sto rispettando in area 30 per poter entrare in maniera insomma decisa un petrolio in area 30 se l'euro dollaro si mantiene su queste quotazioni secondo me è un affare andarlo a comprare si comprano dollari e si compra petrolio dovrebbe scendere altri due dollari e mezzo grossomodo già comunque si possono iniziare a imbastire secondo me alcune posizioni contro trend adesso attendiamo insomma una ridiscesa per poter in casa acquistare vediamo che qui il pullback l'avrebbe già fatto se noi mettiamo i ritracciamenti di fibonacci che sappiamo ci aiutano sempre per identificare un ritraccio si prende un minimo e lo si collega ad un massimo e vediamo che insomma fatto qua 61.8 di fibo grosso modo ripartito al rialzo quindi per esempio già un'operazione in 3d interessante diventa l'acquisto al rialzo in caso di rottura di quest'area di resistenza quindi qui sopra io ci potrei mettere un buy stuff ok quindi sopra quest'area di resistenza perché cosa vorrebbe dire che vorrebbe dire che questo effettivamente è stato un solamente un ritracciamento e che il mercato ha forza di ripartire che non è cosa così scontata attenzione siamo comunque in un mercato di bassista e ci attendiamo di vettura a 30 quindi questa è un'operazione contro trend dobbiamo avere tutte le certezze ci sono c'è qualche domanda fino adesso dove metti lo stop per questa operazione chiaramente stop sempre in canna soprattutto quando si va contro trend io lo metterei qui sotto quindi sotto il minimo di questa candela mi trovo sempre dei livelli fisici per inserire gli stop loss e questo è un livello fisico a mio avviso interessante c'è una candela rialzista che è rimbalzato sul 61,8 di Fibonacci quindi al momento qui sopra scatterebbe il buy Umberto cosa ne pensi di questo trade? perfetto vedo che ci sono anche dei nuovi se avete qualche domanda mi raccomando fatela al momento azionario vedete abbastanza fermo quindi non sprechiamo troppe parole appena uscita disoccupazione in America uscita leggermente peggiore dell'attese e l'altro sottostante che a noi piace veramente molto il coffee tiziano a cosa ti riferisci al al VTI? lo vedi qui l'ordine siamo su time frame H1 e abbiamo messo l'ordine qui sopra 33 e 14 ricordo che questa è una piattaforma demo dove si cerca di imparare qualcosa non è un posto dove insomma vi diciamo cosa fare o cosa non fare siete sempre voi i responsabili per i trade che andate ad inserire qui insomma volevo farvi notare che in generale su questo tipo di livelli a me piace comprare perché ci potrebbe essere una conferma del trend rialzista vi dicevo coffee altro sottostante particolarmente interessante che al momento mi piace l'idea di acquistarlo siamo in questa zona che io considero zona di acquisto ok ci sono sparate sempre pronte ad arrivare infatti abbiamo un primo livello 116.75 e secondo me già da qui si potrebbero tentare degli acquisti per sfruttare questo floor il coffee che è colpito insomma da diverse cose diversi fattori macro tra cui la siccità che sta colpendo il Sud America e quindi fa alzare i prezzi mentre invece adesso stiamo di fronte a una comunque caduta dei prezzi nell'ultimo nell'anno scorso ci sono state alcune cose che hanno fatto abbassare il prezzo per esempio la Colombia che insomma sembra aver alleggerito le regole per la commercializzazione quindi del caffè quindi insomma ci sono un po' di fattori che l'hanno spinto a ribasso ma a mio avviso anche macroeconomicamente la situazione è buona per andarsela a comprare un po' di caffè e non mi riferisco solo all'espresso ma insomma a comprarne qualche tonnellata comprare qualche tonnellata è un sottostante veramente interessante perché quando parte parte potrebbe fare 180 200 ok vorrebbe dire fare il 100% quando si va a rischiare magari inizialmente questo livello quindi un 114.33 tiziano mi chiede si può valutare anche un intraday oltre al multiday assolutamente sì sul coffee l'idea appunto è quella di un possibile rialzo quindi a mio avviso si può anche sfruttare per un intraday alla fine di questo trend sul supporto c'è il gap da chiudere di qualche giorno fa potrebbe essere anche interessante un piccolo acquisto con take profit stretto io comunque predilevo sempre andare ad acquistarlo questo sottostante ok stop loss comunque stretto veramente stretto quindi un intraday bello bello veloce potrebbe starci quindi questo è un intraday bello veloce quando siete un po' in guadagno ve lo portate a casa quasi più una scalpata che un intraday in caso potete anche allargare un po' lo stop loss per lasciargli un po' di respiro c'è un 17.45 quindi meno di un dollaro e questo potrebbe insomma diventare un buon trade magari da chiudere un pezzo subito e un pezzo da lasciar correre in modo da avere anche un buon risk reward quindi coffee secondo me in area buy sia per trade di carattere intraday che specialmente però di carattere invece multiday ripeto andiamo a rivedere sul daily zona di acquisto al momento e altro sottostante interessante che sapete è la mia valuta la mia coppia preferita euro yen ci troviamo in zona di supporto abbiamo una candela fortemente rialzista si possono pensare di fare degli acquisti in particolare domani andremo ad acquistare sopra il massimo di oggi ripeto domani andremo ad acquistare sopra il massimo di oggi questo è grosso modo sicuro che io lo farò allo momento area 128 quindi sopra 128 va di acquisto domani va di acquisto se questo rimane il massimo andiamo a vederlo anche sull'h1 comunque io cercherei solo di comprarlo anche sull'h1 128 rappresenta un livello tecnicamente interessante quindi h1 anche conferma il buy di coffee in caso di superamento di area 128 scusate il buy di euro yen in superamento di area 128 lo yen debole di solito favorisce le borse anche se ultimamente diciamo che queste correlazioni sono venute abbastanza mancare vediamo se pian piano si ristabiliranno quindi al momento anche sull'euro yen abbiamo grossomodo la stessa idea h1 e daily entrambe in acquisto abbiamo visto quindi un vti un coffee un euro yen e un vix insomma che c'è poco da fare ripeto ma tenetelo sempre aperto il grafico del vix perché dovete sempre tenerlo sott'occhio ci sono sempre ottimi segnali che vi da questo sottostante ditemi voi qualcosa che volete andare a vedere che andiamo ad analizzare insieme marco mi dice il fib fuzzimib fib a mio avviso un indice poco interessante poco competitivo rispetto agli altri poco competitivo rispetto agli altri sta andando a risentare i minimi però vi dico subito il tic sul fuzzimib è troppo grande rispetto a quanto vale 5 poteva andare bene quando valeva 40.000 secondo me quando ne vale 20.000 non va bene io solitamente invece che analizzare il fib vado su spagna o posso analizzare il fib e tradare su spagna l'indice spagnolo molto meglio anche perché non c'è la top in tax quindi mi raccomando chi fa sfib secondo me dovrebbe switchare girarsi sul ibex questo è l'ibex questo è l'età 40 sono entrambi correlati insomma positivamente una correlazione abbastanza forte vedete infatti i gap dei giorni scorsi abbastanza simili hanno orari molto simili perché non si possono imparare a donare al DAX perché DAX a parte è molto più violento ma anche una possibilità di trading diversa perché apre le 8 di mattina contro questi due che preferiscono dormire e si svegliano alle 9 e oltretutto vanno anche a letto prima in quanto insomma chiudono alle 5 5 e mezzo quando invece il DAX chiude alle 10 quindi ci sono diverse ore di negoziazione in più non sono molto programabili graficamente comunque Fuzzimib in picchiato essenzialmente indice fortemente venduto ci sono stati dei cambi azionari interni al Fuzzimib che insomma stanno hanno dato dei segnali insomma la quotazione di Race alias Ferrari sul segmento Italia quando prima era quotata solo al New York Sucks Exchange e con lo spin-off da Fiat quindi su il lita 40 pesa molto pesa abbastanza Fiat e insomma le vicende societarie che stanno succedendo al momento comunque indirizzato verso il Bartro il Fuzzimib probabilmente anche più degli altri indici non molto da fare soprattutto e l'analisi tecnica qui tra l'altro trova un po' il tempo che trova perché appunto la quotazione alla fine quanto quota 8 ore 9 ore non sono veramente nulla quindi secondo me anche l'analisi tecnica su questo strumento è un po' difficile comunque la rottura del 61,8% con questo gap di continuazione ci fa pensare che le vendite qui non sembrano essere chiuse ce lo possiamo andare a vedere anche sul 15 minuti fase fortemente laterale potremmo investire un'operazione di vendita sotto il minimo sotto questo doppio minimo area 19.800 per in caso entrare al ribasso quindi ITA 40 al momento sono abbastanza abbastanza ribassiste vedete invece l'Ibex come ha già una candela daily differente si sta un po' riaprendo al rialzo quindi al momento io sul Fuzzimibri rimarrei in vendita su Spagna un po' meno anche se ripeto gli unici sono così correlati che in generale si muovono abbastanza uguali sicuramente se avete un sentiment long meglio comprare Italia con stop molto stretto quindi anche questo si può fare mettete lo stop 40 punti questa è un'altra operazione che si può fare un acquisto con stop loss sotto il minimo è sicuramente un buon acquisto risk reward assolutamente positivo potremmo puntare tranquillamente ai 20.000 se oggi decidono di muoversi il mercato ovviamente Marco mi chiede invece per il DAX come vedi un rimbalzo da 9.910 lo vedo bene questo trade immagino tutti riferisca potrebbe dare alcune soddisfazioni la ripresa rialzo con forza tra l'altro tra un 40 minuti aprirà l'America quindi ti do assolutamente il mio appoggio la penso come te insomma se riusciamo a tornare sopra 9.910 potremo vedere un rialzo discreto delle quotazioni quindi buono l'acquisto qui sopra attenzione io entro con sites leggera perché appunto oggi mi sembra una giornata veramente laterale dopo questo gap quindi potrebbe dare assolutamente falsi segnali quindi posizione leggera vediamo se riusciamo a comunque a carpire un buon movimento al rialzo riguardiamo il coffee mi chiedete questo il bike può avere carattere multi day o carattere intra day a seconda di come lo vedete marco dice dax chiude sempre i gap e attenzione insomma il dax chiude i gap ma quando se questo è un continuation gap potremmo seguire per altri 400 punti questo gap ci ha messo parecchio per chiuderlo questo era per esempio un continuation gap gap iniziale gap di continuazione e insomma ce n'era di strada da fare quindi insomma occhio alla chiusura del gap ci può stare non andiamo a scommetterci troppo però sicuramente un trade da fare il long sopra 9910 va bene io per oggi vi saluto spero di avervi dato qualche buona info se avete qualche domanda scrivetemi pure marco.martinelli chiocciola xtb.it se avete bisogno di qualche analisi o qualcosa insomma contattatemi pure lì e non mi resta che augurarvi di nuovo un buon 2016 con ottimi trade soddisfazioni personali e salute a tutti quanti a presto a presto e qui Grazie a tutti.